A lei, che dici? Mi compro questi guantini per la palestra? I guantini per la palestra? Stai diventato fomentato per la palestra Ma no, Claudio mi ha lasciato Aspetta, scarica l'attenzione con una corsetta, su Si, lo so che ci servirebbe, però adesso ti sto parlando di un problema Se ti puoi fermare un attimo e se ti voglio parlare di questo problema Siamo andati a cena fuori Che avete mangiato? Riso, pollo, albume Che c'entra che mi sono mangiato? Che una persona se lascia in base a quello che si mangia? Che vuol dire? Vabbè, ricordate, la sera sempre proteine e mai carboidrati Ma sei un amico mio o sei un nutrizionista? 104, 105, 106, 106 Ma invece, guarda che cruccio queste cuffiette per la palestra Si, si dovrebbe mettere chi ti sta vicino E rincoglionisci le persone Ciao Ciao, ben arrivato Come stai? Bene, un po' raffreddato, va bene Tutto a posto, si Vieni A casa? Va bene? Ma perché dovete un po' giù? Sta bene È verità questa L'inconscio è il problema L'inconscio Perché noi a volte crediamo di essere nel giusto Ma il nostro inconscio ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato Capito? Avanti al prossimo Grazie dottor Non dov'è? Sono tre più Non dov'è? Vabbè, ho capito, poi prendo questa magliettina carina, dai Una magliettina carina per la palestra devi fare una sfilata Che stacchezza ragazzi oggi è stata veramente dura Scrocchi a sé Levate sbrigliate, mi serve altro Devo fare tre storie sui posti e poi è tutta tua Vedi che? Ho detto levati Schiena più dritta per favore che ti fai male Arrine Che sta succedendo? Ma che ne so Mi chiede una tre porta alla posta e ha preso due storie Ma che fai medie? Tre storie sui posti Stiamo a battare la piacca qui, eh? Non va bene Adesso per punizione mi fai cinque storie e due posti Ti capito? E medagli Il deltoide, mi raccomando, mi devi fare lavorare il deltoide, è importante Taggami pure a me, per la che c'è stacca Ma scusa piede stacca notta, guarda che roba Questa te fa un fisico, le donne sa come ci cascano i piedi Ma mica sei in discoteca che ci vai per rimorchiamo Tanti caro, che corsi che stanno oggi? Oddio, per te... Kickbossi Prefugilistica Un corso intercivo simbato in bodybuilding Perché no? Abbiamo anche yoga E acquaggima Quello è solo donne E quante vengono? Corsi 15 euro a lezione Ma quante donne vengono? Il corso di yoga è pieno così Tutte donne Allora oggi mi sento yoga Yoga Segniamo yoga Se io ci vedo pure io No Da quant'è che ti spazi le gambe? Veramente sono molto elastica Te meno, vedo Adesso mi vedi così, ma io a casa Faccio dei corsi di yoga, sono cintura nera Che ti interessa? Che ti interessa? Sta a fare step? Che sta a fare? Che viene a casa mia e fanno step e babbi Tre metri sopra il cielo Scusami Io c'ho una piscina condominiale Ma che vuoi? Vabbè senti intanto io mi prendo il burro da raggidi che fa bene alla pelle Sì, fa la prostata Ma che stai a dire? Ma ora sei diventato tutto uomo Perché per le gambe bisogna fare gli squat Gli squat E forze speciali Gli squat 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 Guarda a casa Deciso di far palestra Proprio la settimana del Black Friday Vabbè con tutti i stessi sconti Se faticate meno